ok ragazzi siamo passati da maxell ci eravamo visti online online perfetto ok siamo con massimo feliziani sono amministratore delegato seo dell'azienda e presidente dell'azienda ok allora sono passato perché volevo toccare con mano il packaging della linea galenica ma anche di tutte le altre bioterapi complimenti per lo stand bello luminoso grazie straffato all'esca in calza è sempre un piacere anche se voi siete ben presenti in italia sì sì esatto noi abbiamo un mercato come diceva un'intervista duplice sia estero che in italia in italia ci collaboriamo con distributori che hanno una propria forza vendita poi abbiamo anche il canale diretto quelli nostri agenti che vanno nei saloni nelle Marche dell'Umbra e poi abbiamo l'estero con i nostri area manager e gli export manager che si adoperano per introdurre i nostri due brand sia maxell che shika all'estero e siete sempre alla ricerca di nuove figure che possono lavorare con voi ricordiamo questo assolutamente sì assolutamente sì nuovi export manager nuovi manager per l'italia specialmente per il nord italia dove vogliamo iniziare una campagna di penetrazione perché il territorio italiano è vasto comunque sia e a noi interessa il mercato domestico ok voi siete molto forti soprattutto al centro centro sud si è però adesso quindi il nord arriviamo esatto arriveremo anche il nord sono sicuro sì sono ok parliamo di prodotto parliamo di packaging le vostre scelte che avete fatto sì dunque noi abbiamo suddiviso innanzitutto la linea le linee perché questo il brand maxell in questa in questa questa parte dello stand qui abbiamo assolutamente optato per un pack con materiale pieti reciclato e reciclabile e che comunque ci garantisce un po il recycling no fare environment perché questo è un po il punto di forza dell'azienda qui vediamo tutti i pack di tutta la linea parliamo della linea bioterapi tutto ciò che la linea verde tutto ciò che riguarda la la ricostruzione il care la air care quindi shampoo maschera e quant'altro poi sopra abbiamo la linea biorganic la biorganic che è destinata allo styling poi abbiamo la linea miracle questa qui oro che è una linea pluri uso un po il concept americano di fare prodotti per il corpo per i capelli per tutta la famiglia cioè che hanno più usi con un solo singolo prodotto e poi la nostra io dico l'ho già fatta mia hai visto esatto ok tanto tutto stampato in serigrafia grande attenzione non ci sono etichette ragazzi sì 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 galenica è una linea è un nostro vanto galenica è una linea completamente cosmos organiche certificata da Icea Icea è un ente certificatore che ovviamente garantisce worldwide il prodotto cento per cento naturale quindi parliamo di otto items totali cioè quattro tipi di shampoo i quattro tipi di maschere per capelli li abbiamo divisi in duplice pack per il retail nel 250 ml che ovviamente più maneggevole per il salone invece pecche da 1000 ml da 500 ml qui vediamo solamente la linea retail e poi la parte ti interrompo questi bellissimi espositori no a 100 per cento riciclabili in casa ma è solo per la fiera o no 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 questo 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 qui è il nuovo format per i distributori e nuovo format in termini di materiale da merchandising che andrà in supporto quindi è un è un mobiletto completamente costruito con cartone reciclato e riciclabile e con colle a base di acqua inchiostri a base di acqua quindi è completamente green e cento per cento naturale è un nostro vanto perché abbiamo fatto un bel progetto con un'azienda marchigiana e comunque collabora insieme a noi immagino che venga spedito piatto e così così anche nella spedizione risparmiamo volume e quindi trasporto certo assolutamente diventa veramente un libretto rende tutto compattato facile da trasportare soprattutto in un con un peso assolutamente ridicolo quindi tecnicamente si risorge quindi conti ci aiuta veramente con i con i costi dei trasporti e quant'altro poi abbiamo creato anche i mesi diciamo le scatoline contenitrici per fare tutti i nostri diciamo gift no nel periodo magari del fiesta della mamma abbiamo organizzato questi pecche che ospitano sia i flaconi da 200 ml che i vasetti da 200 ml per ovviamente per fare poi il regalo natalizio piuttosto che ovviamente molto carini davvero e qua abbiamo la linea senza tempo esatto la linea la linea scica il timeless è la nostra colorazione a dieci minuti questa linea scica nasce con il concetto di servire diciamo la new adult generation quindi parliamo dei millenials e la generazione zita perché perché è composta da prodotti che sono estremamente semplici nell'utilizzo e soprattutto a una diciamo caratteristica easy to use e facili da utilizzare smart in tempi in termini tecnicistici cioè si usa facilmente si usa con dei tecnicismi interessanti specialmente nella linea della colorazione noi in timeless abbiamo inserito anche un brevetto un brevetto protettivo per la cute quindi le nuove generazioni sono molto sensibili a ciò che usano a ciò che utilizzano quindi anche timeless è stato arricchito di questo brevetto all'interno che si chiama zymatic control che va a fare una sorta di protezione di film protettivo nel momento in cui andiamo a colorare i capelli molto importante soprattutto per i ragazzi anche sono giovani pasticciano molto con i capelli se giocano insomma e la cute poi porta un po il conto no esatto esatto vogliamo assolutamente salvaguardarla poi le nuanze scelte in cartella colori sono estremamente trendy sono di tendenza dedicate a loro con questi colori metallici e è in costante work in progress perché la linea come dicevo è stata lanciata nel 2022 in occasione del cosmoprof e adesso sta crescendo veramente sia in italia che all'estero ok a seconda delle richieste qual è il colore più venduto in italia perciò che riguarda timeless per quello che riguarda il timeless e piace tantissimo piacciono tantissimo i colori metallici piacciono tantissimo i colori matte la serie matte lo stesso piacciono moltissimo i e quelli che noi chiamiamo cioccolati freddi cioccolati iceberg perché sono cioccolati con diciamo dentro dei pigmenti freddi che tendono un pochettino a smorzare il rosso il rosso la tricosiderina che comunque si vede nel colore nel cioccolato normale insomma perfetto quindi se uno volesse ancora approfondire di più ricordiamo che siamo lo stand 31 siamo lo stand 32 a padiglione 32 32 b 27 sono io che sono già cotto al secondo giorno ma siamo in due perché alla fine va bene gentilissimo grazie grazie romano grazie per questa opportunità è stata una bellissima esperienza a presto ragazzi grazie